Ciao a tutti e benvenuti nella mia cucina. Oggi prepariamo insieme i bomboloni, sempre dal cuore alle mani per voi. Versate nella ciotola della planetaria la farina, lo zucchero, il lievito, la vaniglia o la vanillina e mescolate bene il tutto. Aggiungete anche le uova leggermente sbattute. Quindi azionate la macchina e lavorate a bassa velocità aggiungendo il latte tiepido poco alla volta. Unite la scorza di limone grattugiata e il burro che andrà aggiunto un tocchetto alla volta. Quando avrete aggiunto tutto il burro e sarà stato del tutto assorbito, eliminate la foglia e sostituite con il gancio e quindi incordate l'impasto. Trasferite ora l'impasto sul piano di lavoro e lavorate per qualche minuto. Lavorate l'impasto energicamente fino a quando non risulterà liscio ed omogeneo. Pirlate l'impasto arrotondandolo e quindi trasferitelo in una ciotola imburrata, coprite con pellicola trasparente e lasciate lievitare fino al raddoppio. Nel frattempo preparate la crema pasticcera e lasciatela raffreddare mescolando di tanto in tanto. Ecco l'impasto lievitato. Quindi eliminate la pellicola trasparente, trasferite sul piano di lavoro leggermente infarinato e stendete col matarello fino ad ottenere un disco dello spessore di circa un centimetro e mezzo. Con l'aiuto di un coppa a pasto o di un bicchiere ricavate i bomboloni e trasferiteli su carta forno. Lasciatele lievitare fino al raddoppio. Una volta raddoppiati il loro volume procediamo con la frittura. Portate l'olio ad una temperatura di 160-170 gradi. Quindi aiutandovi con la carta forno immergete i bomboloni. Eliminate la carta forno e lasciate cuocere i bomboloni fino a quando la parte a contatto con l'olio non è perfettamente cotta. Così. Quindi girate i bomboloni e procedete alla cottura. Monitorate sempre la temperatura dell'olio che non superi i 170 gradi. alzate i bomboloni e trasferiteli su carta sorbente per qualche secondo. Quando saranno ancora caldi immergeteli nello zucchero e avvolgeteli completamente. Praticate un forellino su ogni bombolone. E quindi farcite con quello che più preferite. Crema pasticcera, nutella, marmellata. Con questa dose ho realizzato 9 bomboloni grandi e 9 bomboloni piccolini. In questo caso farcito con la nutella. E anche con la crema. I nostri bomboloni sono pronti per essere serviti e gustati. Grazie per aver seguito anche questa videoricetta. Alla prossima. Ciao.